Una tentata estorsione messa a segno probabilmente per vendetta, aggravata dalle modalità mafiose. Per questo i giudici della prima sezione collegiale del Tribunale di Lecce hanno condannato a 5 anni e mezzo di carcere Luigi Di Gesù, 42enne di Gelatina, arrestato nell'ottobre del 2010 nel corso dell'operazione Mercante in Fiera. Una condanna più pesante rispetto a quella, a 4 anni, invocata dal procuratore aggiunto Antonio De Donno. L'uomo avrebbe, secondo la ricostruzione accusatoria, tentato di estorcere denaro a Maurizio Nardelli, imprenditore di Nardò, organizzatore della manifestazione Lecce Arredo, che si svolge all'interno della fiera di Gelatina. I destini di Di Gesù e Nardelli si erano già incrociati nel 2004, quando entrambi vennero arrestati nell'ambito dell'operazione Grifone. Il processo si concluse con l'assoluzione di Nardelli, risultato estraneo all'accusa di essere l'uomo del clan all'interno della fiera, e con la condanna di Di Gesù. Nel corso del dibattimento, però, l'imprenditore avrebbe reso delle dichiarazioni in grado di incastrare gli altri imputati. Da qui sarebbe nato il proposito estorsivo, almeno secondo quanto ritiene la procura, sulla scorta della denuncia presentata dallo stesso Nardelli. Di parere contrario l'imputato, assistito dall'avvocato Luigi Greco, che respinge ogni accusa e sostiene che le dichiarazioni di Nardelli, nel corso del precedente processo, nessuna influenza avrebbero avuto sulla sentenza di condanna. Di Gesù, alias Luigi Pica, affiliato al clan Coluccia, dopo l'arresto del boss Michele Coluccia, secondo gli investigatori avrebbe assunto il ruolo di referente esterno del gruppo.